. Belen indossa ancora lanello di Iannone, la storia non è finita. Belen Rodriguez porta ancora lanello di fidanzamento di Andrea Iannone. Belen Rodriguez si mostra sui social con lanello di fidanzamento di Andrea Iannone. Ricordiamo che il motociclista aveva regalato questo gioiello alla showgirl argentina, in occasione del compleanno di quest'ultimo. Stiamo parlando di una delle folli spese di Iannone per Belen. In questo modo la Rodriguez sembra smentire la sua rottura con Andrea. Infatti, nel corso degli ultimi giorni girava sul web la notizia sulla fine della relazione di Belen e Iannone. . A lanciare questa informazione ci aveva pensato il noto settimanale Chi, il quale dichiarava che tra i due era finita. . Sono molti i gossip che girano intorno alla Rodriguez. . Spesso si parla delle sue relazioni amorose. . Ma chi sperava di rivedere la showgirl tornare tra le braccia di Stefano De Martino, padre di suo figlio Santaggio, deve farsene una ragione. . Tra Belen e Iannone sembra non essere finita. . . La Rodriguez si mostra con l'anello di fidanzamento. . Pertanto, possiamo dedurre che la relazione tra loro continua a gonfie vele. . . Belen Rodriguez smentisce la sua rottura con Andrea Iannone. . Chi dava la notizia sulla rottura tra Belen e Iannone. . Ora la showgirl sembra voler smentire il tutto, sfoggiando il suo anello di fidanzamento, da 300 mila euro, sulle storie di Instagram. . Impossibile non notare il prezioso gioiello sull'anulare della Rodriguez. . . D'altronde abbiamo anche visto diverse foto su social che ritraggono Iannone in compagnia di Jeremias. . Quest'ultimo, dopo essere uscito dal grande fratello Vip, ha incontrato il suo grande amico. . Infatti, ricordiamo che è stato proprio l'Argentino a permettere la conoscenza tra Belen e Andrea. . Andrea Iannone e Belen Rodriguez stanno ancora insieme, l'anello conferma. . I fan della coppia composta da Belen e Andrea possono mettersi l'anima in pace. . I due stanno ancora insieme e è questa foto a confermarlo, come vi abbiamo già rivelato prima. . . Ora non ci resta che attendere qualche esplicita dichiarazione da parte dell'Argentina. . . Il motociclista fa, dunque, ancora parte della vita della Rodriguez. . L'anello resta lì fermo sull'anulare della nota Showgirl. . . . Ciao